Al quartiere generale della Nato, il segretario della difesa americana Austin ha appena detto che questa guerra è una maratona, non uno sprint. Quindi durerà ancora lungo il massacro di soldati e di civili, gli uni e gli altri sacrificabili alla volontà di potenza di pochi uomini. I gerarchi di Mosca continuano a prendere di mira la popolazione ucraina. Crivi ricolpita di nuovo da missili da crociera, 14 insediamenti bombardati nella regione di Kharkiv, allarme aereo in molte regioni del paese. I comandi di Kiev dicono di aver intercettato molti missili e droni, ma alcuni hanno bucato le difese, colpendo impianti industriali nella regione di Nipopetrov. Anche i russi dicono di aver abbattuto una decina di droni sui cieli della Crimea. La penisola annessa da Putin nel 2014, vero inizio di questa maledetta guerra, che si trascina tra ritirate strategiche e avanzate limitate. La controoffensiva ucraina procede lenta, ma lascia dietro di sé una scia di cadaveri. Corpi di soldati russi mandati al macello dal boss del Cremlino, che approfitta del compleanno di Xi Jinping, oggi fa 70 anni, per ribadire la partnership strategica con la Cina. Mentre il suo vassallo, il dittatore bielorusso Lukashenko, dice che da Mosca arrivano armi nucleari tattiche. Immediata la replica della Nato in riunione a Bruxelles. Dovremo adattare la nostra deterrenza nucleare, ha detto in apertura di lavori il segretario generale Stoltenberg. Deterrenza, cioè arsenale contro arsenale. Una corsa sfiancante a chi incute più paura. Lo spettro del Novecento non ci dà pace.